Ciao carissimo, no no non disturbi affatto, sto dando un occhiata a delle foto per procedere alle prossime assunzioni, certo è ovvio che dovrà avere una bella presenza, guarda ne ho qui una tra le mani, che è un vero spettacolo, pensa, sa addirittura a ballare il tic-tac, quest'altra invece, quest'altra dice di aver vinto, ah sì, una gara di moto sincronizzato, un bel corpicino, però a guardarla bene, no ha un naso che non funziona, è troppo grosso, no, assolutamente, quest'altra invece, quest'altra dice di conoscere Schopenhauer, chi se ne frega, è più brutta di nonna velata, guarda penso proprio che la scelta cadrà sulle prime due, magari le convoco per un colloquio, sì hai ragione, non ho tutto questo tempo da perdere, guarda penso proprio che sceglierò la ballerina, sì sì, andrà benissimo con il prof di filosofia per il prossimo triennio, ma aspetta, devo fare le cose per bene, collegio docenti, sei signato dirigente, beh, adesso che vi ho serviti sono a posto anche per eventuali ricorsi, e posso assumere chi cazzo me ne frega, è bello essere dirigente, articolo 9,2, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi.